Se per caso hai trovato così il tuo monitor oppure il tuo desktop con questo colore qua, quando lo hai avviato, in questo caso è il problema della visione notturna. Quindi se si è avviato Windows 11 con questo colore qua, è possibile andare direttamente qua sopra, dove sta proprio la connessione, luce notturna, tasto destro sopra, vai a impostazioni. Ovviamente io lo tenevo su visione notturna ma non con questo colore qua, quindi andando direttamente su luce notturna, livello. Se si è aumentato il livello automaticamente ti consiglio di impostarlo tipo su 50% oppure sul 70% ed eccolo qua. E hai risolto così il colore sullo schermo.